Siamo a Parma, è Barriera San Lazaro, siamo di fianco. Arco di San Lazaro. Arco di San Lazaro, o confuso con Barriera Repubblica. E quindi lei è... Zutotò. Zutotò, vuol dire zio Totò. Dallo zio Totò. Siciliano di dove? Ribera. Ribera Agrigento, c'era una squadra di basket femminile. Io scrivo da una vita, adesso poco, quasi più per i giornalisti. Lavoro tipico Palermo Metano, qua. Perché c'è un ragazzo di Palermo che lavorano qua. Da quanto esiste? Intanto siamo a Parma, appunto. Io sono dal 2005. È arrivato all'epoca o...